Abbiamo unito le forze con una psicologa, Stefano, che è del territorio e abbiamo pensato a questo tema perché riteniamo che la famiglia in questo momento particolare sta attraversando dei momenti difficili. E siccome il nostro obiettivo è stato sempre quello di far vivere la donna in questo giorno riflettendo su qualche problematica importante, spero che questa di quest'anno desti lo stesso interesse degli anni scorsi. Alle donne noi vogliamo bene ed è questo un gesto veramente di benevolenza verso di loro. Se ci sarà la partecipazione e ne avranno beneficio, noi saremo felici di aver speso tanto tempo e tanta fatica per preparare il tutto. L'appuntamento, come dicevamo, l'8 marzo alle ore 16 presso l'aula consigliare. C'è un bel parterra di relatori, la dottoressa Stefano, che lei ha già nominato, ad aprire sarà il sindaco di Vallo, poi tanti interventi. Sì, ci sarà Don Roberto Guida, che è preposto alla pastorale familiare di Ocesano, che darà il suo contributo da competente che è. Poi avremo il dottore Ronzini, che senz'altro ci arricchirà con la sua preparazione. Poi c'è l'avvocatessa Giordano, che è, da quello che mi hanno detto, una persona specializzata proprio per le adozioni. Infatti lei ha adottato quattro bambini. Io spero che da questo ingondo veramente ne venga qualcosa di utile e pratico, perché fare parole inutili nel giorno dell'8 marzo credo che è proprio superato. Noi ricordiamo molto la tragedia che ci ha fatto vivere l'8 marzo come una giornata dedicata alle donne, perché sono molte e tante povere operai in America. Ora se troveremo il riscondro nelle donne che io ritengo che sono intelligenti e che sappiano capire questi tentativi che noi facciamo come Associazione Pro Salute per venire in gondro alle loro necessità, noi vedremo spesso bene sia la parte economica e sia la parte proprio fisica, che io mi permetto di invegnarci perché nello statuto è scritto che è la Presidente che si carica di queste preoccupazioni e pensieri. Grazie. Grazie.